Grazie a tutti. 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 posto in un certo modo, pretendevo e pretendo una serie di cose che in realtà non ho visto che non sono state fatte. Non c'è stata una visione, una corretta programmazione, quelli che erano i punti salienti anche dello stesso programma del sindaco uscente di fatto sono rimasti sulla carta. Si sono fatte delle cose estemporanee, ma nulla di concreto per la nostra città, nulla che di fatto abbia inciso in maniera concreta e forte sullo sviluppo non soltanto economico ma anche sociale di questa città. Quindi la mia è una profonda delusione, la delusione che deriva proprio da quando ci si aspetta qualcosa in più, da chi si è proposto in un certo modo, da chi è venuto a, tra virgolette, pontificare sull'incapacità di chi l'aveva preceduto pur facendo parte della stessa parte politica, perdonate la ripetizione, si è proposto in un certo modo con una serie di competenze anche che venivano dall'esterno, che non erano slegate dalle dinamiche della città e della politica, ma che di fatto non ha prodotto nulla. In nessuno dei settori nei quali si pensava che potesse incidere, primo tra tutti, la riorganizzazione della macchina amministrativa. Maria Tiziana Rutilani si candida con quali prerogativa? La mia candidatura certamente è una candidatura molto diversa da cinque anni fa. Cinque anni fa mi sono proposta come candidato sindaco in maniera quasi inconsapevole, nel senso che pur avendo delle conoscenze sicuramente non sono quelle che ho oggi, cinque anni fa ero molto disillusa, immaginavo che fosse tutto più semplice, anche nella gestione dei rapporti, nella gestione di quelle che possono essere le dinamiche politiche, le dinamiche di gruppo, anche nel modo in cui si potesse incidere poi anche dai banchi dell'opposizione. Oggi mi sono resa conto che se non si hanno i numeri si possono avere tutte le capacità del mondo, tutte le idee, le ambizioni, però di fatto non si può incidere non avendo i numeri per poter far passare determinati provvedimenti. Quindi oggi sono una persona consapevole, ho acquisito delle capacità e delle conoscenze che non avevo perché io mi sono rapportata, pur avendo un percorso politico precedente, mi sono rapportata alla... è stata la mia prima candidatura, quindi di fatto tante dinamiche non le conoscevo, tante questioni soprattutto attinenti alla parte economica, della macchina amministrativa, la gestione proprio della contrattualistica, erano conoscenze che mi rinvenivano dal mio lavoro, ma poi applicate a quella che è la realtà del Consiglio Comunale, certamente non andavano bene, ho dovuto studiare molto, ho approfondito, quindi oggi sono sicuramente una persona diversa, una persona che propone con delle cognizioni che ha voglia di fare sulla base di uno studio importante che è stato fatto e per questo devo anche ringraziare i consiglieri che sono stati con me, i consiglieri che mi hanno accolto in Forza Italia, dandomi la possibilità di crescere perché non è mai scontato che qualcuno faccia un passo indietro per darti la possibilità di avere un ruolo e di avere un ruolo anche importante, ruolo che poi mi è stato anche riconosciuto a livello regionale con degli incarichi nel partito, perché Forza Italia è certamente un partito che premia le competenze. Le tematiche di cui ti sei occupato nel programma? Per quanto riguarda il programma, io mi sono occupata, è stato un programma scritto a più mani e sicuramente da parte nostra, mia e degli altri consiglieri comunali c'è stata un'attenzione maggiore a quelle che sono state le tematiche affrontate nel corso dei cinque anni. La riorganizzazione della macchina amministrativa, dicevo prima, è fondamentale perché noi abbiamo la fortuna di avere dipendenti comunali che sono quasi tutti ruvesi e quasi tutti gestiscono la cosa pubblica come se fosse la loro casa, quindi con attenzione, con amore, però bisogna dargli un supporto, un supporto che dal punto di vista giuridico è mancato, noi siamo arrivati da una idea di riorganizzazione che c'era stata data addirittura a fare assunzioni tramite agenzia interinale, quindi la completa negazione di quello che era stato inizialmente l'idea che il sindaco uscente ci aveva dato. Quindi su questo sicuramente le capacità, le conoscenze da giurista mi consentiranno di poter correttamente applicare delle variazioni, delle modifiche a quello che è l'attuale assetto delle presenze dirigenziali e capire dove effettivamente bisogna incidere perché lo abbiamo visto praticamente all'interno di questi cinque anni, quindi le carenze da quel punto di vista ci sono e vengono molto spesso compensate dalla buona volontà di alcuni ottimi dirigenti che abbiamo. L'altra parte della quale mi sono occupata e alla quale tengo particolarmente è tutto ciò che attiene alla cultura perché ritengo che questa città sia stata abistrattata, ho avuto modo di dirlo in altre occasioni, nulla si è fatto per il lanciale Ruvo, il marchio Ruvo a livello non soltanto territoriale ma soprattutto l'idea che questa città possa crescere se immaginata in un contesto che non è soltanto quello ruvese ma un contesto che ci deve vedere protagonisti e uniti in un circuito che vede la morgia e il mare con Ruvo al centro. Questo può portare sicuramente a uno sviluppo ma non soltanto un sviluppo nella città ma una rete che si può creare con operatori del turismo, operatori del commercio, della ristorazione anche delle città limitrofe e che potrebbero vedere Ruvo in una posizione importante. Questo si può fare con una valorizzazione delle nostre tradizioni, del nostro turismo sicuramente enogastronomico e religioso, cosa che non è stata fatta. Abbiamo una serie di manifestazioni che di fatto sono manifestazioni che non portano ad un turismo vero e proprio, non portano Ruvo all'interno di circuiti importanti perché sono manifestazioni che in maniera estemporanea vengono create e che di fatto vanno ad interessare gruppi di persone piuttosto limitati. Noi abbiamo necessità di preparare un calendario di eventi, un calendario annuale di eventi che possa consentire anche a chi ha voglia di spostarsi all'interno della nostra città di conoscere a priori tutte quelle manifestazioni che siano culturali, religiose e no gastronomiche nel corso dell'anno. Quindi questo tipo di programmazione è mancata e ci tengo se i cittadini mi daranno la possibilità di poter contribuire perché ho avuto la fortuna di girare tanto, quindi ho tantissime idee che ho visto realizzate in altri paesi dove realmente non c'è nulla ma sono stati in grado dal nulla di creare dei percorsi turistici importanti. In una città come la nostra dove camminiamo veramente su dei tesori abbiamo dei tesori ovunque da valorizzare sicuramente si potrà fare e si può fare soltanto con delle persone che la città la vivono, la conoscono e la amano al di là dei proclami e di tutto quello che può essere la campagna elettorale. Il tuo appello al voto? Io forse a differenza di quello che pensavo non sto facendo campagna elettorale nel senso che la mia campagna elettorale è quotidiana non mi sto proponendo perché credo che la gente mi conosca e quindi quando i posti che frequento i negozi, gli amici, il luogo di lavoro dove esercito la mia professione sicuramente sanno chi sono quando ci si candida si deve far riferimento sempre a quello che si è stato, quello è il biglietto da visita perché promettere, dire quello che si farà, quello che si sarà in grado di fare, lascia il tempo che trova quando una persona si propone ancora per la seconda volta. Credo che il biglietto da visita più importante sia quello che è stato fatto. Io credo di aver dato in questi cinque anni esempio di avere a cuore la mia presenza in Consiglio Comunale. Non sono mai mancata, non sono mai stata assente, sono sempre stata propositiva, sono intervenuta. Io avevo una sorta di ansia che mi veniva dal fatto che mi ero proposta come candidato sindaco quindi certamente dovevo dare qualcosa in più in Consiglio Comunale e questo mi ha portato un grande impegno per cui oggi ritengo che i cittadini ruvesi debbano votare in coscienza rendendosi conto che non possiamo fare esperimenti, è finito il momento dei rodaggi e non possiamo far arrivare in Consiglio Comunale gente che deve prima capire da che parte ci si siede. Purtroppo noi abbiamo avuto esempi negativi nel senso che non sempre arrivare in Consiglio Comunale equivale ad avere conoscenze. Molto spesso avere un pacchetto di voti non equivale ad avere altrettanta competenza, altrettanta possibilità di sedersi e di incidere in Consiglio Comunale. Quindi io credo di aver dimostrato chi sono. Sicuramente oggi mi propongo con delle capacità diverse, con delle conoscenze diverse. Spero di poter fare bene, di avere la possibilità soprattutto di farlo dai banchi della maggioranza. Ringraziamo allora la candidata al Consiglio Comunale, Maria Tiziana Rutigliani, nelle fila di Forza Italia a sostegno del candidato sindaco Luciano Lorusso. Grazie a te Paolo e a voi. Grazie a te Paolo e a te Paolo.